Ci si avvicina la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ma il tema è di stringente attualità. Solo negli ultimi tre giorni tre casi, dal femminicidio della giovane Giulia alla ragazza sfregiata con l'acido dall'ex, ci si interroga su cosa si può fare di più. Oggi gli strumenti ci sono, ma si deve sensibilizzare ancora. Un tema che ogni anno tratta il premio nazionale Paolo Borsellino, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati e la Polizia di Stato, con il progetto Questo non è amore. C'era anche l'onorevole Martina Semensato, che è presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio e che conosce bene i numeri. E di nuovo ritorniamo a quanto importante sia cambiare la visione del rapporto uomo-donna e lo possiamo fare solo attraverso l'educazione delle precedenti generazioni che hanno una visione distorta del possesso nei confronti della donna e ancor più con i giovani ragazzi e le giovani ragazze che oggi animano questo evento. Ricordiamo che l'Aquila è un esempio virtuoso di rinascita nella sua storia. Lo è ancor più in tema di violenza di genere. Ieri c'era qui la Ministra Rocella, la sensibilizzazione nei confronti del numero dedicato proprio alla violenza di genere, il 1522, ma anche la campagna che vede proprio l'Aquila in primo piano sui mezzi di trasporto. Perché attenzione, è vero che siamo nella settimana di sensibilizzazione, ma noi dobbiamo parlare di violenza di genere sempre in continuo perché deve essere un argomento che riempie le nostre giornate per combatterlo. Prevenzione e sensibilizzazione sono gli strumenti fondamentali che abbiamo a disposizione. Un messaggio alla diffusione di un certo tipo di cultura rivolto soprattutto agli studenti delle scuole superiori. Obiettivo del progetto è informare e aiutare a far emergere le situazioni di violenza offrendo alle vittime attuali e potenziali il massimo supporto con personale specializzato. Tutto questo mentre alla Camera è già passata la nuova legge contro la violenza che è molto più stringente e che ora si appresta a completare l'iter per avere sempre più strumenti che possano prevenire le situazioni di violenza intervenendo prima in un addelitto avvenuto. La Polizia di Stato continua a raccomandare a tutte le donne di non aspettare e denunciare. Ci sono tanti strumenti, dall'ammonimento meno grave alla sorveglianza, arrivando poi alle vere e proprie misure cautelari. Oggi c'è anche il 1522 a disposizione. Sono presenti sul territorio nazionale centro antiviolenza, case e famiglie. La Polizia di Stato in prima linea si adopera affinché le donne vittime di abusi, di violenze, di persecuzioni, di minacce possano rivolgersi a loro al fine di vedersi assicurati alla giustizia i colpevoli. Ricordiamo che nella giornata di oggi il premio Paolo Borsellino, dal titolo Questo non è amore, vengono indicate le modalità che possono essere esperite per risolvere questa questione.